E adesso visitiamo un centro specializzato di diagnostica per immagini in cui si trovano le TAC, le risonanze magnetiche, la PET. Vediamo a cosa servono questi apparecchi, che risultati possono dare per le diagnosi. Scoprire un tumore anche di piccolissime dimensioni, studiarne l'aggressività, vedere se benigno o maligno, se cresce o diminuisce con le terapie. E questo è il ruolo della diagnostica per immagini, apparecchiature oggi sempre più ricercate dall'estrema precisione che ci permettono di viaggiare all'interno del corpo umano. Ma quando ci si rivolge ad un centro come questo? Di solito viene il paziente inviato o dal medico di medicina generale o da uno specialista, in questo caso uno specialista oncologo, il quale deve formulare un preciso quesito diagnostico e il radiologo dovrà scegliere la metodica che è in grado di rispondere al quesito diagnostico nella maniera più veloce possibile, ma anche dando la minor dose di radiazione possibile al paziente. La scelta tra gli esami è ampia, tra i più comuni c'è la TAC, uno scanner completo del nostro corpo che serve ad individuare attraverso i raggi X l'eventuale presenza di neoplasie e possibili metastasi. La TAC è indicata nella scadiazione di un po' tutte le patologie neoplastiche, un po' tutti i tumori, in particolar modo essa, anche come esame dedicato a singoli organi, eccele nello studio del polmone. I tempi sono molto ristretti, per una evoluzione dell'intero corpo umano è possibile conseguire una evoluzione ottimale in meno di 5 minuti. Questa invece è una risonanza magnetica, qui non si usano radiazioni ionizzanti, ma onde elettromagnetiche che come in una grande calamita attraversano il corpo del paziente inviando delle immagini da elaborare al computer. La risonanza magnetica in genere è usata dopo altri esami, in special modo dopo la TAC, per chiarire eventuali dubbi. Tuttavia, per alcune patologie neoplastiche sospette o accertate, in particolar modo a carico della ferra genitale femminile, a carico della mammella, è un esame che viene eseguito di prima istanza. I tempi di acquisizione della risonanza magnetica sono infatti molto più lunghi rispetto a quelli della TAC. Per un fegato in TAC in due minuti è possibile valutarlo benissimo. Per la risonanza possiamo valutarlo in circa 20 minuti, con delle immagini che però hanno in genere un valore diagnostico più elevato rispetto a quelle conseguibili con la TAC. Esami sofisticati che vanno anche oltre la diagnosi. Attraverso apparecchiature come la PET-TAC, ad esempio, il tumore viene monitorato accuratamente in tutte le sue fasi. Il medico ha così la possibilità di verificare l'efficacia di una terapia in corso ed eventualmente modificarla o riconoscere in anticipo possibili recidive. La TAC-PET è un metodo di diagnostica per immagini, ibrido, che unifica in un unico momento diagnostico le informazioni di tipo morfologica derivante dalla TAC con quelle di tipo funzionale metabolico derivante dalla PET, mediante l'utilizzo di traccianti che sono delle sostanze debolmente radioattive che si accumulano nelle cellule tumorali maligne. Come in questo caso possiamo vedere che un nodulo evidenziato dalla TAC lo possiamo caratterizzare come un nodulo di tipo maligno in quanto presenta attività metabolica.